Siamo qui a Verona ad abitare il tempo con Toba, che è l'ultimo prodotto di MCZ particolarmente sensibile a quelle che sono le tematiche ambientali di ecosostenibilità. Toba è una stufa a pellet che fa parte della famiglia Cubo, un insieme di prodotti a pellet che sono stati studiati e sono il frutto di un processo di industrializzazione che l'azienda ha condotto negli ultimi due anni. Sono stati studiati e ottimizzati e oggi offrono una serie di performance di tutto rispetto. In particolare è stato raggiunto un livello di riciclabilità di prodotto pari al 90%, cioè il 90% della componentistica di queste stufe è totalmente riciclabile. È una stufa che accoglie dei materiali ecocompatibili come l'alluminio e questo ha portato alla riduzione del peso mediamente intorno al 20% con conseguenti vantaggi rispetto a costi logistici e di inquinamento ovviamente. È stata ottimizzata l'industrializzazione del prodotto e l'80% dei componenti utilizzati in questa stufa sono presenti in tutti gli altri prodotti MCZ. Quindi complessivamente abbiamo un prodotto dal design molto minimale, innovativo perché non presenta la classica griglia di espulsione aria frontale, quindi un prodotto discreto, pulito e che bene si integra in un contesto sia moderno che classico e ha in sé una serie di funzionalità e di caratteristiche tecniche e funzionali diciamo di ultima generazione. Uno dei motivi di orgoglio di MCZ è che la nostra stufa Toba è l'unico pezzo nell'ambito dell'evento New Code che effettivamente già esiste ed è già presente sui punti venta. Quindi non è un mero esercizio, un test, una prova o un concept tipico di molti settori ma è di fatto un prodotto che ognuno di noi può già acquistare.